Questo è uno spettacolo del 2009, è il secondo lavoro che io e Lino abbiamo fatto insieme, ha una genesi come tutti i nostri lavori abbastanza caotica, ma nello stesso tempo molto rapida, nel senso che c'era una fascinazione per Uomini e Topi di Steinbeck da un lato, che ha animato una parte dello spettacolo, quella di Due Barboni, che in qualche modo è ispirata a quella, e poi c'è invece la storia principale, quella centrale, anche per quantità più grande, quella ambientata nel mondo di televisione, che quella invece è nata, diciamo, prettamente da noi. Nei primi anni del 2000 si è realizzato questo nuovo modello, che è il modello dei reality, quindi l'abbiamo conosciuto, credo, nel 2004, presso a poco. Questa cosa ha portato a una reazione a catena, soprattutto non solo negli spettatori, ma proprio nella percezione di quello che la televisione ti poteva provocare. Andarmi a concentrare sui settori di mia persona e competenza, cioè reality e soft news, e concludere la mia analisi con i dati di FDBD, figli è un brutto Dio. Da una parte avevamo voglia di fare uno spettacolo in due, che avesse questo tipo di tono, questo tipo di cifra poetica, tragicomica, che è un po' la nostra, e dall'altro avevamo voglia forse di affrontare un sentimento, che era un sentimento di disagio, quasi anche di disgusto per certo tipo di televisione, di mondo televisivo, di visione del successo, della carriera e dell'essere umano legate a quel mondo lì. Lei ha partecipato alla serie TV Gomorra. Come è stato rapportarsi con questa fiction? Quello è un prodotto, per fortuna, insomma, veramente molto, fatto veramente bene, è sempre a televisione, quindi è sempre una serie, non hai la compattezza di un film, che forse somiglia di più a quello che è un percorso, al percorso di uno spettacolo, che ha un suo tempo, soprattutto quando lo provi e poi debuti. Un film forse è una cosa del genere, lavori un mese, due mesi, tre mesi, a seconda, e stai in quella cosa con una serie più diluita. In quel caso, come è stato? È stato sicuramente istruttivo per molti motivi.